a pelle mi viene da dire che ci siano delle incongruenze, dopodiché io non sono esperto del processo di Napoli, tutt'altro, e quindi da questo punto di vista è molto più attendibile le parere di Salvatore che certamente ha seguito e anche promosso l'azione difensiva di Luciano Moggi. Credo che francamente intanto bisogna davvero aspettare le motivazioni perché qui stiamo parlando di un processo penale, stiamo parlando di una sentenza che in qualche maniera ha confermato l'impianto accusatorio, di un reato comunque grave, e questo però mi fa pensare anche, mi fa dire anche una cosa, con molta tranquillità e devo dire con molta personalizzazione di questo parere, perché qui parlo, io e Salvatore ci siamo scontrati tante volte in questo studio su calciopodi, su eletture, credo che questa sentenza ci dica però una cosa molto importante, che caricature su calciopodi non vanno fatte, che scorciatoie su calciopodi non vanno fatte e che bisogna davvero pesare i puntini su lei. Io quando leggo le mail dei tifosi, delle telefonate in cui si fa una visione della giustizia un po' superficiale, mi vengono un po' i brividi, perché quel che certamente dice questa sentenza, che ha diviso Moggi dalla Juventus, operazione che peraltro non nasce oggi, ma nasce nel 2006, ci dice la serietà di questa inchiesta, la serietà, come dire, l'approccio, non quello che c'è dentro, questa sentenza abbiamo avuto tutti la sensazione che fosse figlia appunto di un certo tipo di atteggiamento, che tanti errori non li essi voluti sconfessare, che il dibattimento assolutamente utile provocato, soprattutto dalla difesa di Luciano Moggi, abbia scoperchiato qualcosa che nel 2006 neanche si sospettava, e il paradosso è che per certi versi riapre il discorso sportivo laddove è stato confermato invece il discorso penale. Però quel che è certo è che secondo me quando si parla di questo processo, ed è per questo che io l'ho fatto sempre con grandi difficoltà, bisogna essere veramente molto informati, bisogna aver seguito tutto, io, un po' come Pietro, un po' come José, anche se sono stato molto criticato per questo, purtroppo nel 2006 mi sono dovuto vivere un lutto sportivo molto in fretta per poi occuparmi ai noi dell'Albinoleffe, del Rimini, del Cesena, delle altre squadre, che abbiamo dovuto tra essere B con grande difficoltà. Allora, leggo una mail di Girolamo, perché adesso entriamo in quello che è stato un altro dibattito della settimana. Mi chiamo Gino, vorrei esprimere il mio parere sull'indignazione di Moggi. Lui ritiene che sia stato scaricato, insomma, ve lo traduco, di essere stato scaricato dopo la sentenza di Napoli, e mi risulta che la società l'abbia scaricato subito, che abbia preso le distanze già nel 2006, o sbaglio? Volevo dire la mia sul discorso della sentenza, come giustamente diceva Paolo. La sentenza ovviamente ci ha accolto di sorpresa, perché per chi ha seguito tutto il dibattimento, gli elementi che erano emersi nel corso del dibattimento erano chiari, sono chiari a mio parere. La sentenza ovviamente noi riteniamo che sia molto contraddittoria in alcuni punti, e soprattutto nella pena, perché? Perché abbracciare in tutto e per tutto la richiesta del PM, come è stato fatto, significa non aver considerato assolutamente quello che è emerso nel corso del dibattimento. Quando la Juventus... Prima io ho detto che ringrazio la Juventus per aver fatto il ricorso al Tar, come noi... Salvatore, ricordiamo che cosa è emerso, però... No, però mi devi far finire di parlare, perché sennò io sono in posizione di svantaggio, Luca, quindi mi devi far parlare, perché non riesco a capire. Allora, quando la Juventus fa il ricorso al Tar, io ovviamente ho un moto di apprezzamento. Quando la Juventus invece prende le distanze da Luciano, ma oggi io non ho il moto di apprezzamento. Per il semplice motivo è che se oggi la Juventus chiede alla FIGC 443 milioni di euro, lo deve al lavoro, all'impegno, alla caparbietà della difesa di Luciano Mogi. E questo è un punto chiaro. Detto questo, la sentenza presenta alcune cose, alcune incongruenze visibili a prima analisi, perché come giustamente diceva Paolo, la Juventus non è stata considerata responsabile e Mogi sì. Ora, al di là della pena spropositata, ripeto, rispetto a quelle che sono emersi dal dibattimento, cioè comportamenti simili a quelli fatti dalla Juventus da parte di altri tesserati, non solo, ma situazioni di assoluta, come dire, smentita nei confronti di quelle che emerge ovviamente dalle telefonate, nei confronti di quelle che sono le accuse principali, e cioè sosteggi truccati, ammunizioni preventive e teorema delle sim svizzere. Ora, tutto questo non è stato considerato. Noi abbiamo saputo, radio tribunale, insomma, quelle che sono le voci dal Tribunale di Napoli, che questa sentenza è stata una sentenza molto discussa, molto, diciamo, sofferta nell'ambito del collegio e, a quanto ci risulta, il Presidente Casoria avrebbe voluto, da quel che, ripeto, noi non abbiamo la certezza di questo, c'è il segreto della Camera di Consiglio, ma aveva più o meno intenzione di assolvere o combinare pene molto, molto, molto leggere. È stata, pare, messa in minoranza dalle due giudici all'atere che, pare, abbiano preteso la condanna si siano coalizzate. Noi ricordiamo che nel corso del dibattimento c'era stata anche tutta la querela contro la Casoria, le triple recusazioni da parte di Narducci nei confronti della Casoria. Insomma, c'è stata tutta una sofferenza che si è protratta nel corso del dibattimento. Quello che voglio dire, alla fine di tutto, è che noi, però, nonostante questo, riteniamo, ripeto, leggeremo le motivazioni e faremo una valutazione più approfondita, ma riteniamo che ci siano almeno tre buone motivazioni per cominciare a guardare all'appello con una buona dose di fiducia. La prima motivazione è che, come abbiamo detto prima, la Juventus è stata assolutamente scaggionata. E questo, a mio parere, dà una forza notevole a Moggi. Perché? Perché nel momento in cui Moggi è definito il capo di un'associazione a delinquere e gioco forza, e sembra strano che i vantaggi che questa associazione procurava andassero a tutti gli altri, tranne che alla Juventus. E questo è un punto. Il secondo punto è che la metà o quasi dei capi di imputazione sono decaduti. Moggi è stato assolto per la metà o quasi dei capi di imputazione. Quindi anche i difensori in appello si dovranno concentrare su molte partite in meno e quindi potranno approfondire ulteriormente la questione. E soprattutto, ti dico l'ultima cosa che secondo me è anche la più importante, è, ripeto, dal dispositivo della sentenza si apprende l'assoluzione di Fabiani. E questo è un fattore importante perché nell'ambito dell'associazione a delinquere, Fabiani è accusato di essere il, diciamo, tra virgolette, lo spacciatore di tessere sim straniere. Il fatto che lui sia stato assolto e che tutti i capi di imputazione che riguardassero le partite del Messina, quindi dove lui era dirigente, siano state ovviamente tirate fuori dalla condanna, ci pone, ci fa pensare, non ne siamo convinti, ma ci fa pensare che probabilmente tra le fonti di prova per la condanna non ci siano le sim svizzere. Quindi che la condanna si basi solamente sui sorteggi e sulle telefonate in chiaro.